e ripartenza benvenuti al Reaper 4B vuol dire che avete cliccato con la vostra proprio coscienza sul tasto scopri qui i VST e quindi voi vi beccate questo fantastico pippone del sottoscritto sui VST e sull'importanza del mix di un vocal come vedete qui c'è la puntata 4A tra l'altro in export quindi è proprio diciamo conseguente alla 4A tenendo corto i miei plugin preferiti sono per la compressione della voce sicuramente l'AirVox della Waves è uno dei miei preferiti sono in maniera straordinaria tempo di setup 0 perché basta abbassare la threshold e la voce è compressa bene secondo me lavora bene in un range di meno 3 meno 6 al massimo di compressione anche se può spingere molto di più cioè è un plugin di compressione che vi può permettere di andare anche magari a meno 12 meno 16 di gain reduction ma vi consiglio sempre comunque di stare tra meno 3 meno 6 vi consiglio sempre in caso vogliate degli effetti un po' estremi o comunque una voce molto presente molto compressa come può essere in un pezzo rock molto forte come può essere in un che ne so in un pezzo grunge di non comprimere tanto con un compressore ma di mettere in serie i compressori questa non è la mia idea è la sto rubando in realtà traducendo da un'idea di mix di Dave Pensado andate a cercare su wikipedia lui è uno di quelli veri cioè non come me cioè lui è uno di quelli che me o se lo chiama al telefono se gli mix al nuovo album cioè stiamo parlando di personaggi di questo calibro vi scoccia scusate mi preparo una sigaretta nel frattempo quindi io vi consiglio più compressori in serie ad esempio un Airvox seguito che ne so ad esempio mi piace molto anche il V-Comp sempre della Waves che è quello che scimiotta un po' il Niv oppure mi piace molto per sempre per vocali un po' aggressivi magari i rap il Lapid 2005 compressore fantastico per la voce vi consiglio sempre di per fare un buon setup del compressore di mettere una ratio abbastanza alta attenzione non mettetemi subito in croce per fare il setup attenzione una ratio molto alta scendete molto con la triscia quindi comprimete tanto e poi spostate mettete il rilascio al massimo cioè al più lento possibile e poi giocate con l'attacco del compressore in modo da rallentare l'attacco finché le consonanti della voce non escono in modo scandito e comprensibile una volta che avete trovato la combinazione tra scandito e che il plugin stia comunque lavorando e non stia lavorando troppo lentamente cioè che non stia comprimendo potete tornare a una ratio che io consiglio tra i 3 e i 5 3 4 a me piace anche meno anche 2 e mezzo però diciamo 3 è un buon compromesso è una gain reduction quindi è la vostra triscia dovrà essere per togliere quei 3 4 4 db dalla voce il tempo di rilascio allora dipende c'è chi va con il bpm quindi si calcola in millisecondi quant'è il bpm della canzone e linka il bpm con il rilascio quindi soprattutto alla fine delle frasi hai questo effetto che la voce viene riportata dal gain up del compressore a tempo col pezzo oppure viene messa veramente a istinto cioè girate il pomello e trovate dove vi piace è proprio una cosa purtroppo istintiva non c'è una regola vera una proporzione matematica per il tempo di rilascio sicuramente quella del bpm è un buon consiglio a volte sul quarto a volte su due quarti deve suonare cioè poi alla fine le cose devono suonare dopo i miei magari due o tre compressori metto sempre un peak limiter per rendere ancora più compatta la voce ho solitamente un L2 o un L1 se non ho troppi sbalzi se la voce è già abbastanza piallata un L1 o se no un L2 che reagisce meglio a colpi e assolutamente un plug-in di tape saturation come il cramert saturation o come l'URS saturator pro mi pare in Reaper tra l'altro c'è un plug-in gratis che si chiama saturator non è malissimo non è il massimo ma mi dà comunque quel tipo di serve ad ammorbidire un po' le S serve a ad avere più presenza e questa è compressione e saturazione poco altro clipper niente non uso clipper sulla voce una altra cosa secondo me importante è l'equalizzazione sulle voci prima di tutto passa alto tagliate le basse cioè basta con quest'idea che il vocione profondo ha i 60 Hz e i 60 Hz non ce li ha nessuno con la voce cioè neanche Barry White tagliate queste cazzo di basse io anche anche in modo veramente violento anche a 120 Hz anche a 125 già parte il mio passa alto perché in realtà la vera sensazione di voce profonda nelle basse è lì è a 100 Hz è a 200 Hz non è sicuramente a 60 se invece state facendo una voce che dovrà essere radiofonica o uno spiccolato radiofonico tagliate la voce e poi metteteci un R.I.Bus che è un altro plugin che uso molto per ridare corpo alle basse nel caso ne avessi bisogno ma non mi piace mai quasi mai il mix l'R.Bus è sicuramente un ottimo un ottimo plugin per per le basse una volta messo il passo alto ogni equalizzatore è buono non c'è un vero equalizzatore posso darvi soltanto dei consigli tutti quelli che si ispirano al Pultec sono molto belli per schiarire in alto la voce tipo sui 16000 sui 16000 Hz o sui 10000 così per dargli un po' di aria un po' di brillantezza poi tutti gli altri vanno bene mi raccomando controllate sempre quelle frequenze stronze come i 400 Hz dove si ferma sempre molto sporco molto mood dalla voce poi ognuno purtroppo ogni voce poi si intona a una tonalità diversa quindi vi dico 400 cercatela cioè la tecnica migliore è quella di stringere il campo dell'equalizzatore alzare il dB al massimo cercare la frequenza che vi dà fastidio e poi abbassarla a meno 6 meno 7 insomma a vostro piacimento però veramente ogni plugin è buono io ad esempio uso molto l'RQ o il channel strip dell'SSL della Waves o i plugin dell'UAD che io ho un UAD1 molto 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 validi presenza la presenza della voce quindi nel vostro mix è dettata dalla presenza dei 1000 Hz 1000 1500 2500 3000 nella zona comunque un po' delle medie 1000 io sto parlando lo spettacolo dei 1000 se spingete sui 1000 avrete una voce molto presente e per assurdo un po' staccata dal mix se bucate le 1000 la vostra voce andrà all'interno della canzone e questo è già un modo cioè lo staccato e non attaccato al pezzo non è soltanto una questione di riverbero ma è una questione anche di equalizzazione moltissime volte a volte la voce è staccata perché è una equalizzazione diversa da tutto il resto cioè se guardate con un analizzatore di spettro la vostra base avrà un andamento e la vostra voce ne avrà uno totalmente opposto invece devono essere le curve di discesa dalle basse frequenze alle alte frequenze aspetta l'analizzatore di spettro fa così devono essere un po' uguali se non sono veramente uguali la voce sarà sempre un po' staccata e quindi suonare è cipissimo invece riverbero come non citare il plate 142 l'UAD1 favoloso l'airverb nella hall e nel plate molto bello trueverb della waves meno il breverb ad esempio è bellissimo scusate il breverb è un plugin pazzesco e parliamo della differenza tra il riverbero e le riflessioni l'airverb ad esempio mi piace perché divide proprio queste due cose con due slide diversi cioè il riverbero è fatto da prime riflessioni e riverbero le prime riflessioni sono i riflessi della stanza mentre il riverbero è la coda cioè stiamo parlando del micro delay che ti può dare la riflessione delle pareti e invece del shh di un riverbero quello che fa per assurdo amalgamare una voce a un pezzo sono le prime riflessioni e non il riverbero cioè se mettiamo un riverbero che ha poche prime riflessioni probabilmente impasteremo e basta il nostro vocal perché ok gli darà molto spazio ma non gli darà un luogo fisico perché molto spesso noi registriamo in debut con tutta la spugna dove non ci sono riflessioni e queste voci sono lì nel nulla e sono staccate molto spesso per assurdo le stesse riflessioni che noi togliamo con i pannelli dobbiamo rimetterle in mix voi direte che siamo stronzi no noi le togliamo dalla stanza perché magari non sono belle le togliamo facciamo una registrazione asciutta così poi possiamo mettere a nostro piacimento quante riflessioni vogliamo negli studi belli questo è dato ad esempio da delle stanze che già suonano bene di loro cioè io ho visto alcuni making of di che ne so Celine Dion che registrava in una stanza grandissima senza un pannello perché? perché l'acustica era già bella e quindi le prime riflessioni se le beccavano già loro così di default senza senza doverle metterle poi mi raccomando le prime riflessioni ad esempio anche l'altiverb vi dà la possibilità di accorciare il riverb e quindi di farlo un po' più riflettente l'UAD ha il Reflecto CS Reflector che è anche nel channel strip base il true verb ha le prime riflessioni il air verb ha le prime riflessioni sono tanti plug-in che hanno qual tipo di opzione da da utilizzare e delay anche delay ragazzi a piacimento un trick che posso darvi sul delay mettete il delay cioè fate una mandata mettete il delay e poi mettete il plug-in center della Waves e uccidete totalmente il centro dell'immagine stereo quindi cosa succede? aprete il delay che nella vostra immagine stereo non è mai al centro ma è soltanto eye side del vostro mix lasciando al centro un'immagine molto definita e portando l'apertura col delay senza intaccare la definizione della voce è una chiacchierata teorica più che pratica perché anche se vi apro ogni vocal è diverso anche se vi apro un vocal e vi faccio vedere cosa faccio magari adesso lo facciamo comunque adesso vedo appena finisce di fare il render questo stronzo se non è troppo tardi ve lo faccio con un vocal che ho qua in studio però ogni vocal è diverso io vi ho dato così dei trucchi chorus ad esempio non lo uso mai mi dà fastidio al massimo lo metto dopo il riverbero cioè io metto il riverbero faccio una mandata il riverbero e dopo il riverbero c'è un chorus per fare un riverbero un po' più ricco un po' più a volte stonicchiato però diciamo che questa è la mia politica sui VST e il mix purtroppo il mix è try provate 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 e soprattutto ascoltate sempre delle tracce di riferimento cioè mentre mixate tenetevi attaccato nel mixer un iPod con i vostri brani preferiti oppure mettetevi direttamente in sessione in modo da poter avere un riferimento sempre commerciale di come suonano quelli veri perché il vostro orecchio si abituerà in fase di equalizzazione all'equalizzazione anche sbagliata che state facendo se invece continuate a rapportarlo con un mix vero una roba ti mettetevi Adele mettetevi Ricky Martin mettetevi Skrillex quello che volete mettetevi una traccia di riferimento in modo da non lasciare che il vostro orecchio si abitui all'equalizzazione che state facendo ma di continuare a dargli un riferimento di quello è giusto e quello che sto facendo io è sbagliato e dovete correggerlo quando invece vi suoneranno bene tutte e due sarete a posto avrete fatto un bellissimo mix quante cose per domande ragazzi sono qui e chiedetemelo se non è stato chiaro e volete un tutorial di pratico dove mi metto qua con un vocal a mixarlo ve lo faccio però faccio le cose che vi ho detto cioè non ci sono grossissimi altri trucchi che uso io e non faccio compressioni parallele non passo le robe strane mi piacciono le robe abbastanza dritte quindi grazie per stasera vado a fumarmi questa fantastima sigaretta scrivetemi cliccate mi piace su riperiani su facebook oppure commentate qui sotto e alla prossima settimana magari anche prima chi lo sa ciao a tutti